Prego, buonasera e grazie per essere qui a questo incontro. Il terzo del incontro, sia ieri che l'altro ieri, abbiamo avuto due visioni ma dall'esterno di Pasolini. Cosa è stato dal punto di vista teatrale, come in qualche modo lo abbiamo rivisto attraverso anche questo rapporto strettissimo e insieme complicato, insomma con Laura Betti nell'incontro di ieri con Emanuele Trevi. E oggi è una testimonianza diretta, diciamo quindi una sorta di esperienza dall'interno, di ricordi che però nascono dall'interno, da un rapporto che credo sia durato qualcosa come 14-15 anni. 13 anni esattamente. Ecco, Nieto Davoli ha lungamente lavorato con Pasolini, credo che tu abbia fatto nove film in tutto, insomma. E quindi è il caso di dire chi meglio di lui può raccontarcelo, diciamo in una veste anche sia pubblica che privata, sia professionale ma anche più intima in qualche modo, insomma. Ecco, l'idea che io mi sono fatto di Davoli è che è una persona, come dire, insieme semplice, dotato di quella immediatezza, insomma, che ha fatto sì poi che le relazioni con Pasolini, ma anche con l'ambiente che Pasolini in qualche modo frequentava, insomma, le persone che vedeva costantemente, insomma, abbiano in qualche modo subito il contagio, il fascino di un personaggio come Ninetto Davoli. A quale io chiederei, è una domanda che io credo ti avranno fatto un migliaio di volte, insomma, però è un modo per introdurre questo nostro incontro, insomma. Come è nato questo rapporto tra te e Pierpaolo Pasolini? Cioè, in quale casualità, diciamo, si può fissare il tuo ricordo? Sì, hai detto bene, è una casualità proprio. No, io intanto vengo da un paesino, un paesino da Calabria, sono nato in Calabria, e come hanno fatto, diciamo, tante famiglie, si sono sbarcati in giro per il mondo per trovare e cercare fortuna, e così è stata anche la mia famiglia venendo a Roma. Io avevo quei quattro anni e ho vissuto in una periferia di Roma, il borghetto Prenestino, borgata Cordiani, dove Pierpaolo poi approfondì e fece a Cattone. E niente, io ho vissuto in questa borgata, insomma, una famiglia molto, molto povera, insomma, lavorava solo mio padre, eravamo sei in famiglia, quattro figli, mia madre e mio padre. Insomma, una famiglia un po' disagiata, diciamo, una povera famiglia. E io mi sono un po' adaltato a fare tutti i piccoli lavoretti per aiutare la famiglia, insomma, e così, per aiutare, perché insomma, lavorava solo mio padre e io mi aranciavo a fare un po' tutti i lavoretti che è possibile fare. Che successe? Che io un giorno non sono andato a scuola e avevo l'età, diciamo, di 15 anni e mezzo e stavo in giro con i miei amici, così, in giro per Roma, anzi, nei dintorni di Roma, periferia di Roma, che è un quartiere che si chiama, lo chiamano l'Acqua Santa, si chiama, che ancora c'è, dove i romani andavano la domenica a passare, diciamo, il sabato, la domenica a fare barbecue, mangiare, bere, insomma, c'era questa acqua... Fuori porta. Fuori porta, diciamo fuori porta. A un certo punto, con questi miei amici, ci accorgemo che su una piccola montagnola, vediamo un sacco di gente, un gruppo di gente, dico, ma che sarà, che andiamo a vedere, curiosi, come eravamo ragazzi, no? E siamo andati lì a curiosare perché pensavamo ad un incidente, chissà che... Siamo andati lì con i miei amici e lì c'era, appunto, Pierpaolo che stava girando la ricotta. E ti dico, quando siamo arrivati lì, le maestranze, diciamo, di questo film, hanno cacciato via, diciamo, ragazzi, andati via, andati via. E guarda caso, c'era mio fratello che faceva il falegname in questo aiuto attrezzista, insomma, faceva parte del, diciamo, di questa piccola truppa che stavano girando questo film, che quando mi vide, onestamente, quasi quasi mi scridò, Ah, Oninetto, che sta a fare qua? Perché, come, perché è saluto qua? E io, ma veramente, vi è qua, vi è, c'è di presente regista. E mi ha portato da Pierpaolo e ha fatto, dice, a Pasolini, dice, questo è mio fratello Oninetto, Aninetto, questo è Pasolini. Io, onestamente, non sapevo chi era Pasolini, non sapevo chi era Pasolini, onestamente non lo sapevo. Pierpaolo mi guardò e mi fece una carezza in testa, c'è una massa dei capelli, dici, neri, la volta, neri. Neri, neri, e per la volta erano neri. Ma devo dire che io l'ho guardato molto intimidito, Pierpaolo, perché, insomma, non so perché, ma c'è stato qualcosa che mi ha colpito di quest'uomo, perché mi guardò con un'aria dolce, una persona che mi dette subito sicurezza, non lo so, ma mi è rimasto subito simpatico, ma senza aver detto niente, cioè, proprio lo sguardo, questa carezza in testa, ma proprio come se Gesù Cristo sta lì e ti fa una carezza di battezza, insomma, ecco. E così siamo andati via, siamo andati via e Pierpaolo, mentre noi andavamo via, passò con la macchina, ci salutò, ciao, 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 ciao. E poi a un certo punto Pierpaolo mi chiamò, dopo qualche mese, per farmi fare, tramite mio fratello, per farmi fare una piccolissima parte nel Vangelo secondo San Matteo, che io onestamente non volevo fare perché mi vergognavo, avevo vergogna della macchina da presa, delle macchine fotografiche, insomma, ero molto timido, insomma, mi vergognavo, insomma, mi ha dato un po' l'istruzione di come funzionava la cosa, ma insistito così tanto che ho detto, vabbè, e ho fatto questa piccolissima parte nel Vangelo secondo San Matteo, che faceva un pastorello, ma la cosa, diciamo, tragica per me è stato dopo qualche mese che mi chiamò per fare, appunto, uccellaci e uccellini. Aspetta, prima di arrivare, no, parlo troppo, scusate, io parlo troppo. No, nel Vangelo secondo Matteo c'era tutto un milieu anche di personaggi amici di Pierpaolo Pasolini, c'era Enzo Siciliano, c'era queste figure, diciamo, che in qualche modo... Allora, il cinema è fatto di enormi tempi morti, insomma, no? Cioè, tu aspetti lì che deve accadere una scena in cui sei protagonista, ma intanto hai aspettato due ore... Ecco, tu come hai vissuto, visto che era il primo film che... Insomma, anche se facevi una piccola parte... Ma no, ma io non l'ho sofferta, questa cosa qua, nel senso che per me era tutto un gioco, tutto un divertimento, qualcosa di nuovo per me, vedere... Essere coccolato per me era una novità, mi sentivo... Insomma, uno coccolato, quello che non facevano i miei genitori, voglio dire, il cestino, che vuoi l'acqua, vuoi questo, vuoi la sedia, la cosa... E io mi sentivo, insomma, di... Oh, ma che... ma che cazzo so, dico, scusa? Cioè, per me sembrava un po'... Per me sembrava curiosa questa cosa, e mi divertiva. E poi, appunto, ci stavano questi personaggi amici di Pierpaolo che per canneria e per amicizia accettavano, e hanno accettato di fare questo film, insomma. Ma Pierpaolo, proprio per piacere di stare con gli amici, e poi erano giusti anche come faccio, voglio dire, no? È stata invece una cosa... Guarda, non mi dà la parola perché io vado avanti, eh? Sì, sì, vai, vai. Io vado... no, perché... Se no, dici, che cazzo sto facendo... Ma com'era lui sul seno? No, dici, se no, dice... Lui fa introduzione... Com'era? Raccontaci com'era anche sul seno. Allora, no, no, ma la cosa divertente è stata quando Pierpaolo stavamo cercando il Cristo che non riusciamo a trovarlo. Cioè, Pierpaolo, cerchiamo questo Cristo, questo che doveva fare Cristo, e non riusciamo a trovarlo, ma abbiamo fatto tanti di quei provini e attori importanti... Abbiamo nel senso che tu già eri diventato assistente di... No, perché io seguivo Pierpaolo, sì, sì, e come no? Scusa, perché è strano, non ho capito. Era il primo film che facevi. Eh, ho capito, ma Pierpaolo mi faceva... Chissà perché Pierpaolo, non so perché, ma il mio istinto gli dava fiducia. Come quando andammo a vedere delle mostre di quadri, no? Io così, per istinto di quadri, il quadro mi piace. E guarda caso, pure a Pierpaolo piaceva. Istintivamente, non so perché, ma è così, so quelle cose che ti colpiscono e ti piace e non sai neanche te perché, poco che significa, non lo so. Però ti piace, c'è qualcosa che ti attrae e ti piace. E Pierpaolo c'era molta fiducia in me. Allora dicevo, con Pierpaolo abbiamo fatto tanti di quei provini per cercare questo Cristo, che non riusciamo a trovarlo. Non riusciamo a trovarlo. E guarda caso, un giorno Pierpaolo aveva un appuntamento con uno spagnolo, studente, che doveva fare lì un'intervista a conoscere Pierpaolo. Beh, insomma, quando questo Enrico Razzocchi, che ha fatto il Cristo nel Vangelo, quando andò a casa sua, a Pierpaolo gli prese un colpo perché mi chiamò e ha detto «Ninetto, è entrato Cristo, ma è entrato Cristo in casa». Sì, 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 cioè è rimasto talmente svalordito che è rimasto… perché dopo aver tanto fatto dei provini, cose, insomma, questo Cristo gli è entrato in casa ed era appunto l'ha fatto questo Enrico Razzocchi, che poi lui non fece più nient'altro perché insomma era uno studente, insomma, non gli piaceva il cinema. Ma è stata una cosa… un film molto faticoso è stato, molto faticoso, molto faticoso. Ma ci siamo divertiti, insomma, ho preso anche il tifo io in Calabria, pensa un po' a te. Cioè? Eh sì, perché mi hanno dato della frutta non lavata e mi è venuto il tifo, è tutto qua. Dico, devo far cinema per farmi avere il tifo. Vabbè, insomma, io non l'ho preso in borgata, che lì era assolto in mezzo alla monnezza. Ma mi capite quando parlo? Sì, insomma, in mezzo alla monnezza non ho avuto mai niente. a far Vangelo ho preso il tifo, guarda che strano. Vabbè, insomma, questo qui è stato il Vangelo. Andiamo oltre? No, lui era molto incuriosito dalla tua figura, dal tuo modo al tuo essere spontaneo, eccetera. Quando, a un certo punto cosa fa? Ti viene a trovare in borgata? Tu stavi con, vivevi con i tuoi? Raccontaci un po' anche… No, no, io stavo con te, stavo con i miei, ma con Pierpaolo… Lui arriverà con una macchina, lui aveva una macchina sportiva. Sì, aveva una Giulietta, una Giulietta, sì. Ma sì, è nata subito una simpatia, mi piaceva come persona, è una persona che mi dava fiducia, è una persona, diciamo, carina, ripeto, mi sentivo trattato bene usando delle frasi, diciamo, che a casa mia non si usavano mai, è una gentilezza, una delicatezza, voglio dire, che, insomma, questo uomo a me mi ha affascinato subito. Ma i tuoi fratelli, i tuoi genitori, come reagirono quando arrivò questo… No, i miei genitori l'hanno accolto come Pierpaolo quando gli arrivò il Cristo in casa. A noi c'è arrivato Pasolini in casa. È stata una gran bella cosa perché lo chiamavano signor Pasolini, quel signore, signor Pasolini, insomma, per i miei era una persona importante e invece io con Pierpaolo avevo quel rapporto veramente bello, d'amicizia, proprio che… Invece mi sentivo molto tranquillo con lui. Davanti del tu, insomma. Beh, certo, ok, davo del lei a Pierpaolo. No, punto. Scusa, no, cioè lui usava del lei e del voi quando lavorava con Totò. Con Totò, sì. Poi ci arriviamo a Totò. E capirei, dovrò raccontare nuovi film di che finiamo… Guarda che alle sei… Scusa che abbiamo tempo. No, no, alle sei gioca a Roma, te lo dico, eh. No, dico alle sei gioca a Roma, eh. No, te lo dico. Vabbè. Dovremmo anche cercare un posto dove vederla, per cui… Io spero che l'albergo c'è qua. Beh, insomma. Allora. Vabbè, insomma, finisce questa esperienza, questa prima esperienza al cinema e lui cosa fa? A un certo punto ti introduce nel suo mondo, nel suo ambiente, tra i suoi amici, insomma? Sì, sì. Poi, diciamo, appunto dopo il Vangelo, in parte dico io la prima persona che ho conosciuto, come prima tu hai citato, è stata Laura Betti. Lui, la prima persona che mi fece conoscere è stata appunto Laura Betti. E devo dire la verità, che da Laura Betti ho fatto, ho fatto per la prima volta in vita mia, il bagno dentro una vasca. Perché a casa mia il bagno non si faceva, si faceva sì, ma dentro una bagnarola, non so, dentro una tinozza, non so come… Lo sapete voi, no? Dentro una tinozza. E perciò lavar significa mettere una volta in piede, una volta in altro, oppure una spalla, poi una cosa… Insomma, e io invece a casa di Laura Betti ho messo tutto il corpo dentro una vasca. Mi sembravo quasi un morto. E come fu questa esperienza? No, veramente dentro questa vasca mi sembrava una cosa impressionante perché mi sembrava una barra, io mai vista una barra, una barra di cemento, di gesso, di porcellana. Ma poi la cosa bella è che a casa mia si usava, non so se vi ricordate, il sapone scala. No? Che insomma, prima che venisse a schiuma lì, a voglia strovinare. E invece a casa di Laura Betti, Pierpa, Laura, anzi Laura, prima qua ha riempito la vasca, ci ha messo il cosiddetto, non so se ti ricordi, il baddas. Il baddas. Me coglioni, ho detto. Ho detto il baddas, ho visto tanta di quella schiuma, ho detto, oddio mio, ma io ho mai visto tutta quella schiuma, ma di me il tipo proprio sta a coprirmi il viso, tutta la sua. Cioè, era per me una cosa meravigliosa, perché mai vista la schiuma così. Dico, chissà come esco bianco. Allora, insomma, per dire che Laura Betti è stata la prima che ho conosciuto e la prima persona che Pierpaolo mi presentò. Com'era? Insomma, lei non passava per un personaggio semplice? Devo dire che intanto con Pierpaolo aveva una grandissima amicizia e poi sono subentrato anch'io e devo dire che Laura era molto carina, molto affettuosa, una donna che spesso andavamo a mangiare a casa sua quando non c'avevamo niente da fare, perché Laura Betti non è che era una, insomma, era un po' una rompicoglioni, no, adesso pace alla mia sua, però, insomma, era una che veramente dava filo da torce a Pierpaolo. Tu l'hai conosciuta, Laura? Sì, l'ho conosciuta. Ebbene, sopra, lo sai, no, che è una rompicoglioni, è stata una rompicoglioni, no, ed è quella che mi chiamava la notte, dice, Ninetto, dico, ma chi è? Ninetto, vaffanculo, ha detto, ma chi è? Dice, sono Laura, allora, ma poi che stai, dentro un'ultratomba stai, insomma, senti, e mi chiedeva cose, sempre cose, insomma, però devo dire che Laura è stata una donna molto, molto carina, molto, una donna molto sensibile, devo dire, molto, poi è stata una grande attrice, una grande cantante, voglio dire, è stata veramente una donna eccezionale, Laura. Ma Pierpaolo era molto, molto affettuoso con lei, cioè, gli voleva bene Laura Betti, insomma, era un punto di riferimento, Laura Betti, e poi chiaramente con Laura Betti mi ha fatto conoscere, appunto, la Elsa Morante, cioè, con Moravia, Dacia... Lei aveva soprannominato Moravia la nonna, no? Questa era la... Come? La nonna. Eh. Moravia, lei diceva, era la nonna, insomma, del gruppo. Ma chi la... Laura Betti. No, ma no, questo non lo so, comunque voglio dire, sono entrati in questo, in questo, giro, di persone che devo dire che io i primi tempi, i primi tempi mi annoiavo un po', devo dire la verità, mi annoiavo perché, appunto, questi discorsi io non ero abituato a sentire, non capivo, mi veniva difficile capire, spesso mi veniva il mar di pancia, il mar di stomaco proprio, che io mi andavo a rinchiudere, ad un certo punto entra la macchina a pancia in giù perché mi veniva il mar di stomaco proprio, ma no, perché non era abituato, perché Pierpaolo con me si comportava in una maniera molto, molto semplice, molto umana, molto comprensiva, era la mia portata e quando parlava con Moravia, con Elsa, cioè usavano di modi che io non riuscivo a capire, da ragazzino non capivo e mi veniva il mar di pancia proprio, però voglio dire che poi, mano a mano che passavano i giorni, il tempo, insomma mi hanno tutti accettato, spesso appunto sedevamo con Sandro Penna, cioè io sono entrato nel giro di Pierpaolo, ma credo che ti abbiano voluto molto bene, sì, molto, molto bene, sì, 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 mi hanno accettato molto, mi hanno accettato molto e solo l'unico che aveva un qualche cosa su di me, non so perché, che poi io l'ho chiesto a Pierpaolo, era Moravia, dico a Pierpaolo, ma perché Moravia, Alberto, con me non si scioglie, non è, perché dice, mi ha detto, tu sei una persona che purtroppo lo intimidisci, io intimidisco Moravia, perché dice, con la tua aggressività, con la tua allegria, con il tuo modo di essere aggressivo, dice, lo intimidisci, ma lui mi deve intimidare a me, non io a lui, insomma, no, e invece, guarda caso, insomma, ero io che intimidivo lui, questa è la parola di Pierpaolo, che invece poi alla morta di Pierpaolo, con Moravia siamo rimasti, perché Moravia morì dopo, insomma, siamo rimasti in contatto insieme a Dacia Maraini, avevamo questa casa appunto lì a Sabaudia, che spesso uscivamo con Alberto per fare la spesa, voglio dire, andava a fare le compre, veniva a mangiare spesso da noi, perché Dacia magari era impegnata nei premi, libri, così, conferenze in giro per il mondo, e spesso Alberto rimaneva con noi. Quindi Moravia si era rilassato un po'. Sì, 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 insomma, era gli ultimi anni, voglio dire, ma era uno molto affabile, molto carino, solo che mi dispiace che nell'ultimo periodo tante persone approfittavano del suo nome, e questo mi dispiace molto, perché Moravia è uno che... Che intendi, scusami, che... Ma intendo che, che ne so, lo invitavano a casa, a casa di qualcuno, lo invitavano, solo perché invitavano Moravia, e lì faceva comodo come personaggio, come cosa, e poi alla fine lo accantonavano lì da una parte, seduto, come un rimbambito, gli davano una cosa da beve e stava là, ma non è che nessuno gli dava più corda, e non voglio citare chi, ma insomma, voglio dire, è stato usato un po' così, proprio, ma non speculazione, ma approfittare un po' della personalità di Moravia, insomma, e questo mi è dispiaciuto molto, mi dispiace molto. Però voglio dire, ripeto, io poi sono rimasto molto, molto, molto legato a queste persone, però, guarda caso, dopo la morte di Pierpaolo, io queste persone qui le frequentavo, sì, accetto Moravia, Dacia, ma se vedevamo lì al mare, ma siciliano, questi altri, no? I fili si erano interrotti. Sì, perché, insomma, perché, insomma, io andavo lì con Pierpaolo, ma, figura, io telefonavo a, che non lo so, a Siciliano, a Della Sicilia, che fai oggi, la macchina insieme? Mi sembrava, insomma, un po' una cosa, no, fuori posto, ma non mi sentivo, voglio dire, non avevo quell'entusiasmo di fare queste cose. E invece Santro Pella, una persona carinissima, una persona adorabile, veramente una persona adorabile. Ma tu hai di lui, che poi il tuo... Ma io... Ma era vecchissimo, poi, negli ultimi... Ma Santro Penna? Eh, negli anni... Ma come è ricchissimo, ma poraccio, è morto, dico, disgraziato proprio, come è ricchissimo. Ho detto vecchissimo. Ah, vecchissimo, ho capito, ricchissimo. Scusa, ma ho capito, ricchissimo. È morto, morto da povero Cristo, perché lui è morto, viveva a un certo punto, negli ultimi anni della sua vita, è morto veramente da persona non frequentata, abbandonato, viveva in una casa disastrata, era uno veramente messo in condizioni non belle, insomma, no? E questo mi dispiace molto, perché Sandro Penna è veramente uno di quelli che dici, poeta, parli di un poeta, e un poeta è Sandro Penna, che ha fatto delle cose eccezionali, bellissime. E purtroppo, come i grandi, tante volte finiscono così, nella disgrazia. Hai un ricordo del modo in cui Pasolini si rapportava a Penna, insomma? Con Pierpaolo? Sì. Ma loro non si rapportavano, loro parlavano del più e del meno, quello che faceva lui, perché Sandro è uno che viveva di notte, il giorno dormiva. Come Pierpaolo. No, 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 Pierpaolo. Però di giorno invece non dormiva. No, 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 ti sbagli, no, scusa, scusa, te correggo, perché non è così. Pierpaolo era uno che dormiva nove ore a notte, ma a mezzanotte alle nove si alzava e lavorava, a luna ai dieci si alzava e lavorava, cioè Pierpaolo lavorava la mattina, solo la mattina, il pomeriggio invece faceva tutt'altro, voglio dire, ma Moravia era uno che si alzava la mattina alle quattro, alle cinque di mattina e lavorava, Moravia sì. E con Sandro Penna a Pierpaolo c'è un rapporto molto bello, molto umano, molto sensibile, parlavano dei lavori, delle poesie che scriveva Sandro, Pierpaolo li commentava, voglio dire, anche criticava certe volte, anche con Moravia, voglio dire, no? Pierpaolo e Moravia spesso si attaccavano a cena su vari argomenti, no? Beh, erano molto diversi poi, diciamo... Infatti c'erano quasi sempre batti i becchi tra di loro, sempre, li discutevano sempre, però grandi amici... Tu sei andato in viaggio, questi viaggi che organizzavano Moravia, Dacia... Come no, certo... Per Paolo... Come no, abbiamo fatto... A parte Sabaudia, voglio dire, poi... No, no, abbiamo fatto dei viaggi con Pierpaolo e con Moravia in Africa, siamo stati al lago Tanganyika, al lago Vittorio, siamo stati in Kenya, nello Iemene, siamo stati in Marocco, in India, abbiamo fatto un sacco di viaggi insieme. Insomma, ho vissuto questi tredici anni, diciamo, con Pierpaolo, ma veramente intensi e forti. Oh, sta campana si rompe il cazzo, però. No, io non riesco a parlare. Che faccio? Ti dico di smettere. Dai, ci prendiamo tre secondi di pausa, così... Quanto dura? È dura quello che dura. No, io volevo raccontare invece una cosa molto bella, molto bella che uno di questi viaggi, appunto stiamo facendo un viaggio io, io e Pierpaolo, Sergio Citti, Moravia e Dacia. A un certo punto, camminando in mezzo a qua, un deserto, adesso non mi ricordo dove sarà, lago Tanganyika o lago Vittorio, non mi ricordo, a un certo punto sentiamo, dei rumori come dei tamburi. E io ho detto a Pierpaolo, ma che è questa cosa? Dice, allora Pierpaolo gliel'ha chiesto in francese, all'audista, dice, ma che è? Dice, guarda che probabilmente stanno facendo, dice, una festa qua vicino delle tribù, qui, nei vintori. Ah, che bello, che bello io e Sergio Citti, che bello, andiamo a vedere Pierpaolo pure, andiamo a vedere. Moravia dice, no, 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 l'autista, no, 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 è meglio di notico. Perché, scusa? Cioè, perché, dice, qui, c'è due mesi fa, dice, scomparsa una famiglia di tedeschi. E pare che si sono mangiati. Sì, 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 no, davvero, pare che si sono mangiati. Dico, ma allora, siccome con Pierpaolo e Sergio e Dacia eravamo molto avventuvieri, insomma, abbiamo insistito a quest'audista di fermarsi e ho detto, vabbè, tu non vuoi venire? Rimani in macchina, c'entriamo noi. Ci siamo ben camminati, io, Pierpaolo, albergo. Nella foresta. Sì, sì, no, nella foresta. Però era un deserto, dovevamo passare sopra una piccola montagnola, monti, c'erano. Anzi, c'erano tutti, c'erano, camminiamo, arriviamo a un villaggio. Arriviamo a un villaggio dove era quasi l'imbrunire. C'era un certo punto, dico, vedevamo un circolo di persone, di, diciamo, di indigeni, tutti truccati, truccati, disegnagrossi, tutti, quasi nudi. Quasi nudi. E al centro c'era un fuoco dove c'era uno che danzava, con le piume, cose, insomma, che danzava. E noi, piano piano, guatti guatti, ci siamo avvicinati. Ma devo dire la verità, che nessuno ci ha notato. Nel senso che erano così presi a guardare questo che stava danzando. E ci siamo avvicinati, ci siamo messi lì, in un lato, e guardavamo questo che ballava al centro. A un certo punto, questo che stava danzando, ci guarda. Ci ha guardato. E io ho detto a Sergio, è cola. Ho detto, è cola. È tutto, è cola. E comincia a venire verso di noi. Papà c'è tutta dipinta. Di casa è cola, siamo fatti. Dice, no, no, no. Mi ha detto, no, no, Linetto. Dice, sta tranquillo. Come sta tranquillo? Dice, se è vero, così mi ha detto Sergio Citti. Dice, se è vero che usano qui quel modo, dice, che mangiano il capo per assimilare la loro forza e la loro intelligenza. C'è cazzo, dice, qui andiamo a bere noi perché prima si mangiano la nomoraglia. Da Ciamaraini arrivano a noi. Arrivano a noi che già sono sassi. Beh, sono quelle cose, no, che ogni tanto, ogni tanto, guarda, ne abbiamo combinate da tante, ma veramente tante da divertirci davvero, guarda. Poi, che cominciamo? C'è la ciuccialini? No, no, aspetta, aspetta. Tanto abbiamo tempo. Oh, sbrighiamo, sì. Sono le cinque e mezza, eh. Sono le cinque. Vabbè, insomma, è un'occasione questa, insomma, di racconto dall'interno, come si dice, insomma. Vabbè, vuoi parlare di uccellaccio? Parlaci di uccellaccio. No, no, io non voglio parlare di uccellaccio, celine, è che... Tanto, quello è il film, diciamo, che ti ha consacrato come protagonista a tutti gli effetti, insomma. Però, prima ti volevo chiedere un'altra cosa, cioè, due figure, anch'esse importanti, diciamo, nella vita di Pierpaolo, sono state, tu citavi, Sergio Citti, Sergio Citti per un verso e Franco Citti dall'altro, insomma. Ecco, che ricordo hai di questa coppia di fratelli, poi, insomma, no? Cos'era? Poi, tra l'altro, Sergio ha fatto anche dei film notevoli, insomma, al suo modo. Beh, sì, Sergio con Franco sono stati, insomma, fondamentali anche per Pierpaolo, voglio dire. No, Sergio in particolare. Sergio è stato quello che ha collaborato con Pierpaolo, è stato quello che, quando Pierpaolo venne a Roma, è stato quello che l'ha portato in giro, l'ha fatto conoscere le periferie, le borgate romane. E' quello che l'ha un po' estratto, l'ha un po', diciamo, introdotto in queste borgate periferie romane, e poi che Pierpaolo, appunto, approfondì sui suoi libri e sui suoi film, voglio dire. Cioè, per Pierpaolo, Sergio è stato proprio fondamentale, perché è uno che, ripeto, è uno che l'ha introdotto in questo mondo, diciamo, che Pierpaolo è sconosciuto. E poi, di conseguenza, diciamo, si è messo, diciamo, dentro anche, appunto, Franco Citti, facendogli fare a Cattone, a Roma, insomma. Ma sono stati importanti per Pierpaolo, insomma, fino all'ultimo, insomma, Sergio è stato vicino a Pierpaolo, insomma, e anche Sergio, diciamo, con Pierpaolo uguale. Insomma, lui fece Ostia, ha fatto, insomma, l'aiutò anche a introdurlo in questo mondo cinematografico, perché Sergio, la sua passione era fare anche cinema, voglio, non solo all'aiuto regista. Insomma, sono stati fondamentali uno con l'altro. Insomma, sono stati due persone importanti per Pierpaolo, anzi, proprio fondamentali, appunto, per Pierpaolo. E, che dire, io, quando Pierpaolo mi propose, appunto, di fare uccellaccio, uccellini, io, te dico onestamente, ho detto subito di no. Di no, perché, perché, sempre quello che ho detto poco, anzi, io avevo paura della macchina da presa. Su questo Pierpaolo mi ha detto che bisognava parlare, bisognava parlare. Io dico, Paolo, ma io non mi ricordo nemmeno che l'ho mangiato ieri. Diceva, no, Linetto, guarda che ti diverti, ti diverti, no, lascia perdere, no, dai, insomma, va bene, una cosa senza di niente. Insomma, mi ha talmente insistito che poi alla fine Pierpaolo mi fa, io, ripeto, vivevo nelle borgate romane, e a un certo punto Pierpaolo mi fa, dopo aver tanto insistito, mi fa, dice, Linetto, guarda che, guarda che te pagano, eh. Dico, ah, sì, mi pagano. Dico, ebbè, ma che mi danno? Dice, ma non lo so, ci daranno un milione, un milione e mezzo. Nel 65, un milione, un milione e mezzo. E chi aveva visto qua? Dico, che devo fare, va? Gli ho detto, che devo fare, va? Dice, guarda, con chi devo lavorare? Dice, devi lavorare con Totò. Dico, ma Totò, quello del cinema? Perché io non sapevo, Totò, quello del cinema? Io andavo a vederlo al cinema, Totò, andavo lì, insomma, perché Totò, stare olio, cioè mi piaceva Totò, insomma. Ma quello del cinema? Dice, sì, quello del cinema. Ah, io non capivo, dico, cacchio, ma mi pagano per lavorare con Totò? Mi sembrava strana questa cosa qua, mi davano i soldi per lavorare con lui. Insomma, è stata una cosa meravigliosa. E ho detto, beh, allora dai, insomma, è stata per noi, è stata veramente una svolta, proprio, è stata una manna dal cielo, voglio dire, no? Insomma, ma il nostro lo per questo, voglio dire, no? E accettai di fare questo film. Ma la cosa curiosa è che quando Pierpaolo mi disse, Ninetto, dice, guarda, siccome dovreste lavorare insieme per un paio di mesi, sarebbe bene che tu conosca Totò, insomma, che lo conosci, dovete lavorare insieme. Allora Pierpaolo prese un appuntamento per andare a mangiare a casa di Totò. Venne quel giorno, tanto per me, uscire dalla borgata e andare, arrivare a questa zona, diciamo, bellissima di Roma, che sono i Parioli, una zona ricchissima. Cioè, arrivare a via di Parioli, confrontandola qua a casa dove ero io, dico, porca pazzana, dico, c'è stava un portone di legno, di rovere, ma tutto con sti patocchi belli, lucidi. Porca pazzana, ragazzi, ho detto, allora Pierpaolo suona, si apre sto portone e arriviamo all'ascensore, dica ascensore, dica, ascensore, che c'è sta, che è sta cosa qua, ascensore. Poi un divano con, mi è ricoperto con una stoffa di velluto rosso, dentro l'ascensore, dica, ma dentro l'ascensore è il divano, c'è una portoncina, c'è Marinetto, dice, queste sono, dice, quelle case eleganti, dice che hanno questo, questo, questo modo di fare, c'hanno la portoncina. E dico, vabbè, a di loro, insomma, io che fa, uno, monta e entra l'ascensore, spinge, si mette a sedo, dopo un piano di arsetti, mi sembra, mi sembra un po' scomoda come cosa, o no? Insomma, sappiamo, senza metterci seduti, perché c'era pure da sporcarlo io, allora a un certo punto si arriva al pianerottolo e come si fa quando si va nelle case di qualche persona a trovarla? Prima di suonare uno si mette a posto, Pierpaolo si è messo a posto la gravatta, io mi sono messo a posto i capelli, c'era un giubbetto alla meno peggio, insomma, quello che c'avevo io, e a un certo punto, se Pierpaolo suona, chi ci apre? Totò, con una vestaglia rossa cardinale con due pomponi, e io, vi dico la verità, quando l'ho visto non ho resistito a ride, a sbotta, a ride come un pazzo, ma ride come un pazzo proprio a crepa prelle, proprio, ah, ah, Pierpaolo, Pierinetto, e invece Totò è stato così carino, ha detto, c'è dai Pierpaolo, è un ragazzo, insomma, siamo entrati, Siamo entrati, e mi sembrava di sognare, che ridi, che ridi, mi sembrava di sognare davvero, perché, sai, io, vivendo il mio mondo, con la mia famiglia in borgata, e le sofferenze della borgata, a un certo punto, trovarmi lì improvvisamente dentro sta casa, mi sembrava di sognare, ma davvero, sembrava che stavo sognando, perché sono entrato e ho visto una tavola bandita, così, dico, ma che sono morto, perché, insomma, una tavola con lumi, candela accese, fiori su sto tavolo, poi piatti, piatti, tre piatti, al posto vieno tre piatti, uno grande, uno piccolo, l'altro piccolo ancora, Poi forchetta, cortello, poi un altro cucchiaino, cortellino, poi forchetta, bicchiere grande, medio e piccolo, e poi, io ho detto a Pierpaolo, di capa, ma quanti devono mangiare qua? Diceva, questo è il posto tuo, dico, è che mi serve un piatto solo a me, non è che, insomma, per dire, mi sono trovato molto imbarazzato io, veramente imbarazzato, veramente imbarazzato, ma no, perché comunque io confrontavo sempre il mio modo, il mio modo di vita che conducevo, insomma, no, e mi sembrava veramente di sognare, insomma, a un certo punto ho fatto molta fatica a mangiare, davvero, sai quelle gheghe dell'olivo che prendi e ti salta, ecco, è la stessa cosa, ma davvero, poi io, a casa mia, non è che sto usando il cortello, sto usando la forchetta, strappavi e mangiavi, non è che, e il pane, non è che si spezzettava, si mozzicava, c'è, c'è, c'avevamo un altro, un altro, un altro modo di vivere, insomma, no, e, ma non è che era maleducato, è che, ecco, eravamo abituati così, o te mangi la finestra o te butti dalla finestra, insomma, ecco, insomma, a un certo punto mangiamo, con un po' di fatica, si mangia, poi la Franca Faldini, che era la sua donna allora di Totò, dice, Antonio, dice, Pierpaolo, il netto, c'è, perché mettiamoci nel salotto a prendere il caffè e finiamo di parlare del film, che finiamo di parlare, finivano di parlare, perché non è che parlavo, parlavano loro, e a un certo punto Totò si mette seduto, sempre con questa vestaglia rossa cardinale, con questi pomponi, insomma, io guardai per i te, guarda, a un certo punto lui, bello, con gli ardo, messo lì, con le gambe accavallate, proprio da, da persona importante, Pierpaolo pure, sul divano, anche lui, seduto, io pure cercavo di accavallare i piedi, ma non era il mio modo, mi venivano i grampi a me, i grampi qui a Lea, insomma, con molta fatica, insomma, siamo stati lì, abbiamo preso il caffè, parlato del film e Totò ci accompagnò, alla fine ci accompagnò la porta e andammo via, ma quello che è stato, bello, che mi diverte, è che è stato quando io incontrai dopo qualche mese, dopo sette, otto mesi, la Faldini, che scrisse un libro, l'ha messo sul libro la Faldini, a chi non lo sapeva, dice, Rinetto, dice, ma ti ricordi quando sei venuto la prima volta a casa nostra? Dico, a Franca, è certo che mi ricordo, dice, ma tu non sai che ha fatto Totò? Che ha fatto? Cioè, quando lui vi ha accompagnato alla porta, a te Pierpaolo, come hai chiuso la porta? Dice, sei messo a correre con un passo, andò lo sgabbuzzino, prese una bomboletta di DDT e l'ha spruzzata dove stavo seduto io. Ma questo è stato... Era da Totò, eh? Questo è Totò, questo è Totò. E lui aveva un po' una... Questo è Totò, sì, questo è Totò. Una doppia vita. Come è stato poi però il rapporto sul set? Ma devo dire che con lui è stato meraviglioso, perché i primi giorni sono stato un po' impacciato, perché comunque mi trovavo di fronte una persona, una persona, insomma, mi incuriosiva, a me, insomma, come persona, come attore, mi emozionava, onestamente mi emozionava. Però devo dire che dopo sette, otto giorni ho capito subito che era una persona molto buona, molto umile. E devo dire che mi sono trovato benissimo, anzi, mi aiutò molto, diciamo, a stare di fronte a una macchina da presa, mi ha detto anche Cerinetto, se tu dici studi, diventerai un bravo attore. Io non ho studiato e comunque faccio attore lo stesso, non è che voi... No, scherzo, scherzo, scherzo. Ah, Pierpaolo ti ha fatto leggere prima la sceneggiatura, il copione, insomma, come... Ma io la sceneggiatura non l'ho mai letta, non l'ho mai letta. Io facevo quello che... Quindi all'impronta andare... No, 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 lui, io mi imparavo le battute lì per lì, perché voglio dire che con Pierpaolo ci siamo un po' scambiati, no, le idee, no? Voglio dire, io ho dato il mio modo di essere, la mia semplicità, la mia purezza, la mia brillantezza, non so come dire... E Pierpaolo l'ha messo nel cinema, ci siamo un po' scambiati un po'... ha messo il mio modo di essere sul cinema, ci siamo un po' scambiati delle cose con Pierpaolo, perché Pierpaolo mi faceva fare quello che io nella vita facevo, insomma, non è che ho fatto delle cose scritte da lui che non erano da me. Non so se... C'è una cosa molto bella, che tra l'altro avremmo voluto proiettarvi, però le condizioni non lo consentivano, c'è un piccolo video in cui si vede Pierpaolo che intervista te, insomma, e siete in... non so, risale agli anni... Sì, stavamo a casa mia, non lo so, stavamo a casa mia... Ecco, eravate a casa tua, insomma, è una cosa molto tenera poi nel rapporto che Pierpaolo aveva nei tuoi riguardi, insomma, cioè quasi di accuditivo, insomma, e a certo punto... Sì, abbiamo fatto un gioco, Pierpaolo, un gioco così, insomma, è stato quel regista Jean-André Fieschi, che è poverino e morto, e ha fatto questo appunto, sto documentario dedicato a Pierpaolo e si è pensato appunto di fare questa intervista gioco con Pierpaolo, che io intervisto lui, io l'intervistatore l'ho intervistato, e così... No, 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 lui era l'intervistatore e tu... No, no, ero io che intervistavo Pierpaolo. No, 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 eri tu che venivi intervistato da lui, insomma, e come no? Allora diciamo un'altra cosa, parliamo di un'altra cosa, che io a un certo punto gli faccio a Pierpaolo, dico a Pierpaolo, ma secondo te lei, perché davo te lei su... Secondo lei, dice, quale differenza c'è, per esempio, tra il Vangelo secondo San Matteo e a Cattone, o uccellaccio uccellini, Pierpaolo mi fa, cerinetto, girati, chi c'è dietro di te? Io mi giro, c'è stata mia madre, e dico, c'è stata mia madre, ma se tu a tua madre gli domandi chi è più bravo tra te e tuo fratello Pietro o tuo fratello Marco, che vuoi che ti risponde tua madre? Certo. Sono tutti i suoi figli, no? Ecco, questa è stata la risposta. Ed è questa, allora l'intervistatore ero io, lui era l'intervistato. Sì, 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 sono io che ho confuso le parti. Senti, a un certo punto tu decidi, come dire, non di liberarti di questa figura, anche ingombrante probabilmente per certi versi, insomma, però decidi di mettere su famiglia, cioè di sposarti, di avere... e ci sono una serie di testimonianze in cui si vede la disperazione di Pierpaolo Pasolini, che scrive a Paolo Volponi, dice, ma adesso come farò senza Ninetto, eccetera, eccetera. Ecco, tu come hai in qualche modo rivissuto e vissuto allora, insomma, questo episodio che credo per Pierpaolo fu lacerante, insomma. Sì, beh, Pierpaolo è stato lacerante, ma io capisco, ho capito, voglio dire, ma non è che io ho voluto staccare niente, solo che, sai, a un certo punto io penso che due amici, a un certo punto se l'altro ti abbandona perché diventa amico di un altro o di un'altra persona e viene abbandonato a un certo punto all'altro amico che dispiace, no? E questo qui è stato per Pierpaolo, a un certo punto con Pierpaolo erano abituati a uscire tutte le sere, andare fuori, andare a viaggi, controviaggi, a un certo punto mi sono innamorato di mia moglie e mi sono sposato e a un certo punto chiaramente la tendenza era stare più con mia moglie che una... per uscire con Pierpaolo, andare a fare dei giri con Pierpaolo, andare a fare dei viaggi di Pierpaolo, fare di sopralluoghi con Pierpaolo e a un certo punto sta cosa qua, Pierpaolo è stata una disperazione perché con me Pierpaolo stava bene, stava bene perché con me era gioioso, lo facevo ridere, ero esplosivo come penso di esserlo ancora, voglio dire, sono uno molto dinamico, sono molto aggressivo, pieno di vitalità e sta cosa qua Pierpaolo lo faceva impazzire, perché Pierpaolo non era un allegro, intanto, non era un allegro, e con me Pierpaolo era allegro, che dico certe volte quando stavamo girando qualche film, che magari stavamo facendo dei primi piani su delle ragazze o ragazzi, a un certo punto questi ragazzi devono ridere, è successo qualche volta che con Pierpaolo non ridevano, mi mettevo io dietro la macchina da presa e facevo ridere questi ragazzi, li facevo divertire, Pierpaolo lo cacciavo via, voglio dire, perché c'avevo questa esplosione, diciamo, di vitalità che Pierpaolo chiaramente gli piaceva molto e non improvvisamente, ma piano piano questa cosa qua, io non è che ho voluto abbandonare, è che ero appunto, ripeto, innamorato di mia moglie, mi sono innamorato di questa donna e la mia, diciamo, tendenza era a stare più con lei, ecco tutto qua, e Pierpaolo giustamente era disperata questa cosa qua, le spezia molto, e beh vabbè, ma voglio dire, ma io non è che, non l'ho mai abbandonato di Pierpaolo, mai abbandonato, perché comunque, ammazzato così, l'ultimo viaggio che abbiamo fatto l'abbiamo fatto insieme a Stoccolma e dopo una settimana Pierpaolo morì, l'ultimo viaggio l'abbiamo fatto. Prima di arrivare lì c'è una cosa che mi incuriosiva, uno dei luoghi diciamo che ritorna spesso nella biografia di Pierpaolo sono le trattorie, no? Insomma, cioè lui amava molto mangiare fuori, ci sono due posti in particolare che a Roma ritornano insomma, con un'immagine anche, insomma, in certi casi perfino drammatica, cioè il biondo tevere per un verso e il pomidoro dall'altro, insomma, come era Pierpaolo? Ma non è che noi andavamo a mangiare dal pomidoro al biondo tevere, andavamo al pomidoro anche, qualche volta anche al biondo tevere, ma tante volte anche a altri posti, non è che per noi avevamo quelle due trattorie, andavamo a mangiare là, noi andavamo a mangiare spesso da tutte le parti, andavamo quando stavamo al montaggio alla Nissa, andavamo a fiumicino, a mangiare a fiumicino, poi stavamo in Toscana, andavamo a mangiare una trattoria, cioè voglio dire, non è che erano abituati, c'eravamo tante trattorie e ristoranti a Roma, dove lì alla Carbonara del Campo dei Fiori, molto volte con Morabia, con Dacia, cioè non erano i posti fissi, andavamo spesso da tutti, tutti da Armatriciano, voglio dire, andavamo lì a... ma spesso giravamo, insomma, non erano posti fissi. Beh, però questi sono quelli che sono rimasti nella... Sono rimasti quelli perché questi qua sono rimasti nella storia ultima, all'ultimo periodo, perché lì dal pomidoro, l'ultima sera stavamo insieme con Pierpaolo dal pomidoro e guarda caso, la stessa sera Pierpaolo andò con questo tizio al biondo tevere, allora questa cosa qui ti è rimasta impressa, ma casualmente perché è successa quella sera, capito? Senti, tu accennavi al... tranquillo, accennavi all'ultimo viaggio... L'ultimo viaggio a Stoccolma, no? Che faceste assieme, ecco, diciamo che gli ultimi due anni, due, tre anni della vita di Pasolini furono particolarmente tormentati, no? Insomma, era come se lui avesse in qualche modo, non ribaltato, ma insomma, guardato a questo paese come qualcosa di irredimibile, insomma, di qualcosa che non si poteva rimettere in una carreggiata. Ma Pierpaolo l'ha sempre detto, non sono gli ultimi anni, l'ha sempre detto, cioè... Però questa cosa si è accentuata... L'ha sempre detto, l'ha sempre detto, l'ha sempre detto che purtroppo stiamo percorrendo diciamo una vita talmente percoce al nostro modo di essere che questo qua ci porta alla catastrofe. Ma l'ha sempre detto Pierpaolo, perché purtroppo potenzialmente tutti quanti siamo portati a questa forma, diciamo, essere catturati dal consumismo e Pierpaolo è una cosa che lui detta e ridetta, insomma, che purtroppo questo ci porta a... addirittura Pierpaolo dice che arriveremo al baratto, pensa un po' te, al baratto, perché comunque potenzialmente siamo tutti portati a essere americanizzati, che non era così purtroppo, no? E però siccome mi ha sempre detto Pierpaolo che purtroppo l'italiano è un essere molto debole, molto debole, mi dispiace dirlo ma questa è una cosa che purtroppo, lo diceva Pierpaolo, siamo un paese, diciamo, di gente povera, di cervello proprio, culturalmente parlando voglio dire, no? Perché ci siamo lasciati tutti quanti travolgere dal sistema. Lui diceva della televisione, per esempio, la televisione dice che è stata fatta questa grandissima invenzione, sta scatoletta qui, dice che è una cosa bellissima, importantissima potrebbe essere, però questa qui ha fatto ciò che tutti quanti ci ha portato a diventare tutti soldatini. Pierpaolo allora diceva qualche anno fa tu ti affasciavi dal balcone e facevi una distinzione di classe, ti affacci oggi, siamo tutti soldatini, tutti vestiti nella stessa maniera, tutti vogliamo parlare in italiano, tutti potenzialmente portati a essere tutti uguali, no? Cioè perciò per dirti che Pierpaolo già parlava di questo qui, non è che sono gli ultimi anni, già ne parlava, e che poi oggi, e che per oggi, oggi è tutto, è tutto, diciamo, visibilmente successo, è così, siamo diventati tutti un po' così, insomma tutti i numeri siamo diventati, no? Non siamo tutti i numeri, tutti i numeri, oggi abbiamo i telefonini, i media, sì, siamo diventati così, oggi qualsiasi cosa sei numerato, cioè ci abbiamo, siamo schiatati tutti, insomma, no? Siamo tutti controllati, voglio dire, no? Senti, gli ultimi film che tu hai fatto con lui è stata la trilogia poi della vita, sì, è stata la trilogia dei Cameroni, i racconti di Canterbury e le mie notte, sì. Come fu quel rapporto? Ma devo dire che... Perché te poi, insomma, diciamo la verità, dalla relazione, dal modo in cui, è come se tirasse fuori l'aspetto favolistico che c'era nel tuo stupore, nella tua maniera anche di stare sul... Ma guarda che per Pierpaolo la trilogia sono state le ultime belle cose che ha voluto fare, sono state le ultime belle cose che ha voluto fare, che c'era ancora, era un momento ancora possibile raccontare delle favole. Esattamente. E ha fatto appunto questa trilogia, i racconti di Canterbury, le mie notte e il De Camerone, e ha voluto raccontare come ultima cosa, veramente ancora favorevole, raccontare queste favole. Ma per il cinema Pierpaolo, Pierpaolo ha chiuso col cinema, con Salò. Lui ti ha parlato, perché quello è un film, come dire, che tu puoi estrarre e mettere in qualche modo in una teca diversa rispetto alla produzione precedente. Tu in quel film non hai lavorato, non hai partecipato. Però io ho l'impressione, devo aver letto da qualche parte, forse ricordo male, che lui non ti coinvolse nel film, in qualche modo quasi per proteggerti da questa sua visione oramai terribile che lui aveva, insomma, no? È così? Sì, è così, così. Cioè, intanto lui diceva che comunque se io sono una persona che se avrebbe vissuto in quell'epoca mi avrebbero ucciso subito, mi avrebbero ucciso e allora perché tu non puoi esistere, dice su una storia così. E allora non mi ha fatto essere partecipe, ma giustamente voglio dire, ma ha proprio voluto tirer fuori da, diciamo, da questo mondo, diciamo, tremendo, no? E tu riuscivi in qualche modo anche a allenire quella cupezza che lui aveva negli ultimi, ripeto, negli ultimi anni, nell'ultimo anno anche, prima... Ma cupezza? Che vuol dire cupezza? Cioè Pierpaolo, perché io spesso mi dicono questa cosa qua, degli ultimi anni Pierpaolo è... ma non è vero niente. Cioè nel senso che Pierpaolo aveva fino all'ultimo una vitalità, diciamo, di voglia di vivere, di fare... Noi dovevamo fare altre cose con Pierpaolo. Noi dovevamo fare... Cosa dovevate fare? Per San Paolo. Dovamo fare... I remaggi randaci. Quello che lui prese appunto, appunto, sul petrolio. E che dovevamo essere allora io e Totò, poi Totò morì, dovevamo farlo io e Edoardo De Filippo. Voglio dire, non è che Pierpaolo diceva mai, l'ultimi anni si era casciato e per lui era come un po' una chiusura della vita. Ma non è vero niente, perché Pierpaolo andavamo a giocare a pallone, andavamo a fare le cose. Insomma, se ti dico che l'ultima settimana, prima che morisse, stavamo a Stoccolma, voglio dire, siamo venuti in Svezia. Voglio dire... Che eravate andati a fare in Svezia? Ma perché aveva una conferenza Pierpaolo, doveva fare delle cose, non mi ricordo bene per dire la verità. Però per dirti che l'ultimo viaggio siamo stati lì. Poi lui andò a Parigi, perché stava finendo appunto il film, e io tornai a Roma, ci siamo proprio divisi lì. Dopo una settimana, quando lui arrivò, poi successe quello che successe. Ecco, quindi tu dai un'immagine un po' diversa da quella che di solito viene offerta di questo Pasolini, nell'ultima fase della sua vita, drammaticamente, come dire, ripiegato su una riflessione quasi senza speranza. Però una questione, poi magari lasciamo qualche domanda, se c'è, del pubblico. Tu andasti a riconoscerlo nella camera mortuaria, quando... Perché parliamo di questa cosa? Perché fa parte della vita anche questo. Ma non parliamo di questa cosa, perché a me mi mette tristenza e angoscia per dire la verità di parlare di questa cosa qua. Tanto se sanno, voglio dire, non è che... No, io quello che volevo chiederti, ora puoi... Scusate, ma è una cosa che mi mette tristezza per la terza cosa qua. Rispetto questa tua scelta, però in quell'evento, in quell'evento drammatico... Siamo lasciati con Pierpaolo quella sera, ma come fai? Quella sera, come tutte le altre sere, ciao, va, se vediamo domani, come tutte le altre sere, io poi la mattina lo trovo così, ma che vuoi che dica? Ma che vuoi che ti dico io? No, capisco. Trovo un amico mio così, ma che vuoi che ti dico? Puoi scegliere l'unica cosa che ritieni giusta, cioè il silenzio, insomma, quindi puoi non dire nulla, cioè non è... E' un fatto talmente enorme, io lo capisco, insomma, ma... Però al tempo stesso, come dire... Che stai a dire? Dì, di... Cosa c'è? No, no, lui, lui, che ha detto? Che ha detto? Non vuol dire continuare con la domanda. Appunto. Se c'è qualcuno invece che vuole fare qualche domanda, fatela, perché questo è cinque e mezza, ve lo dico, io fra un po' me ne vado, scusate. Dai, vediamo. Prego, Sì. Però bisogna passare... La televisione, so che non era molto entusiasta, circa l'uso che sarebbe stato fatto della televisione in Italia. So che era pessimista, pensava che la televisione non avrebbe educato gli italiani, ma li avrebbe maltrattati tra videocliette, nel senso che li avrebbe appiattiti, che avrebbe passato delle idee che non aiutavano la personalizzazione delle persone. Signora, scusi, questo è quello che ho detto un attimo fa io. Ho detto che... Ho detto che Pierpaolo, quando mi inventarono questa scatoletta, intendevo la televisione, intendevo questo. la scatoletta, non è delle scarpe, è scatoletta, è televisione, è la televisione, che Pierpaolo diceva che hanno fatto una grandissima invenzione, inventare questa televisione, però purtroppo questa televisione è stata usata male, si usava male, perché non era educativa, perché purtroppo sopra noi, senza dire chi sopra noi, gente purtroppo con cervelletto così, non è che ci aiutavano, ci mandavano fuori da testa e ci faceva diventare, come dice lei, tutti soldatini, tutti uguali, tutti... è quello che ho detto prima, che Pierpaolo diceva che quando una volta ti affacciavi sul balcone faceva una distinzione di classe, no? c'è stava il borghese, il medio borghese e il sottopoletariato, cioè da facci oggi sono tutti uguali, tutti soldatini, è questo che ci ha fatto diventare la televisione purtroppo, e Pierpaolo era contrario a questo, perché? Perché era usata male, no? È questo che voleva sapere, no? Ecco, è l'uso che se ne faceva, certo, è l'uso che se ne faceva, che purtroppo è guidata da persone poco competenti, e pensi che una volta hanno fatto, dico, amministratore, generale, Enzo Siciliano, della RAI, dopo un anno hanno cacciato via, signor, e lui era l'intellettuale, voglio dire, no? Hanno visto che non era il caso, hanno cacciato via, perché potenzialmente c'aveva delle idee, insomma, possibile che la televisione, forse, qualche cosa si cambiava, come hanno visto uno strano, eh? Hanno cacciato via, avete capito? Poi chi? C'è un'altra domanda grazie, allora, in una delle ultime interviste che Pasolini ha rilasciato a proposito di Salò, che si chiama l'intervista sotto l'albero, è stata definita così, è un'intervista che ha fatto Gideon Bachman a Pasolini, Pasolini parla di lei e fa riferimento soprattutto a suo figlio, dicendo che, parlando proprio lei, ha fatto riferimento ai soldatini, dicendo che adesso gli scolari a scuola vanno vestiti tutti quanti in maniera così omologata, più di quanto fosse nel fascismo, ecco, e dice poi, io adesso guardando il figlio di Ninetto ho una grandissima compassione, perché non ho speranza per una gioventù di questo tipo, lei, il suo figlio, vede un soldatino oppure vede qualcosa di diverso, qualcosa che si oppone al sistema? Guarda, io mio figlio lo vedo mezzo soldatino e mezzo no, nel senso che anche mio figlio, come d'altronde anche in un certo qual modo, anche io quando esco da casa devo diventare un soldatino, per forza, per forza, perché io ogni volta che esco da casa mi devo confrontare con un sistema, un mondo, diciamo che non mi appartiene, però mi devo adeguare, non so se mi spiego, è mio figlio, a casa mia si comporta come si dovrebbe comportare e fuori è un soldatino come gli altri, non so se... e gli faceva compassione a Pierpaolo perché purtroppo, purtroppo, mio figlio avrebbe vissuto una vita, chiaramente non quel mondo bello, quel mondo, diciamo, di sogni, quel mondo reale, quel mondo vero, quel mondo vogliamoci bene, un pane, un pezzo di pane diviso in due, cioè dove affrontare una vita, una vita diversa, catastrofica e questa è la preoccupazione di Pierpaolo riguardo di mio figlio, capito? Ma io mi oppongo al sistema, però è una guerra persa, è una guerra persa, nel senso che io a casa mia e con i miei amici ho il mio mondo, la mia vita e il mio modo di pensare fino in fondo, però ti ripeto, esco fuori e mi devo confrontare, mi devo difendere, mi devo difendere da questo mondo che purtroppo per tutti, non solamente per me, ci dobbiamo guardarli dietro perché è un mondo, non è un mondo leale, è un mondo pieno di sorprese, cattiverie, capito? La ringrazio molto perché questo intervento ha colto un elemento centrale che nel festival della politica doveva uscire. Mi fa piacere. No, no, poi c'è il mondo. Ciao Rinietto, una domanda rapida, come vedi la Roma di oggi, la città di Roma, non la Roma come squadra? Ma che cazzo c'entra la politica adesso? E c'entra sì. Ma che c'entra? Alemanno che interviene sulla sette, no, non lo segui. No, dai. No, lasciamo perdere. Neanche attraverso il film di Sorrentino, La Grande Bellezza. No, no, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, ok, d'accordo. Io non riesco a essere obiettivo, questa è la realtà. Non riesco a essere obiettivo. Poi non vorrei neanche essere frainteso perché io ho il mio modo di pensare e aver vissuto con Pierpaolo per me è stata una cosa troppo forte, perciò sono uno che giudica e allora non voglio giudicare perché purtroppo quello che fanno oggi è quello che succede nella vita è quello che è una cosa insomma io non so tante cose non so molto non so d'accordo però Come ero capito Continua a vedere una stupenda e misera città come la vedeva lui sia pure in un altro modo Misera, il nostro misera, solo misera, il resto non c'ho mai Misera Ma perché ridi? Non ridi l'altro, non devi ridere Tu devi fare l'intervistatore, l'intervistatore è serio Ninetto Ciao Parla l'italiano però perché lui parla, non lo capisco Il traduttore c'è Non ti preoccupare Ascolta cosa voglio dirti una cosa, oggi ci siamo incontrati, siamo stati assieme e ho sentito in te un qualche cosa che mi appartiene anche se vuoi Ci siamo scambiate le idee e anche abbiamo scherzato, ho trovato in te non l'attore come penso io, ho trovato un uomo semplice Una persona che tutto quello che ha fatto e che hai descritto oggi sembrerebbe che ti ha colpito da una parte ma ti ha fatto rimanere quello che sei sempre stato Il ragazzo di Borgata, quel ragazzo che non ha studiato come dicevi ma è rimasto in un mondo che per esempio potevi diventare un personaggio diverso da quello che sei Magari quel soldatino che tu parlavi Il fatto che sei rimasto con questa spontaneità, questo modo di parlare che tutti ti capiscono Lo devi a tu stesso perché sei sempre stato quel ragazzo, lo devi anche a Pasolini perché ti ha insegnato a vivere in questa maniera La domanda è questa Ma io intanto per me è difficile dire Quando mi dicono Linetto ma tu sei un attore Per me la parola attore non so che significa attore Per me l'attore, come attore vedo gas ma così Io sono io Nel senso che io sono me stesso Il cinema che ho fatto con Pierpaolo non è che mi è costata fatica Nel senso io ho fatto il cinema con Pierpaolo Essendo me stesso, perciò con nessuna fatica E come persona Ma non vedo perché dovrei usare altri termini e altri modi Perché io faccio cinema Faccio questo lavoro diciamo per essere preciso Questo lavoro perché io Sì Faccio questo lavoro Mi diverte, mi piace, lo faccio Se una cosa mi diverte la faccio, se non mi diverte non la faccio Ma voglio dire alla fine faccio me stesso Chiaramente cambiando dei ruoli Però sono sempre me stesso E mi piace essere me stesso Perché se un produttore o un regista Mi propone delle cose diverse da quello che potrei essere io E gli dico subito di no Perché Ma perché non mi diverte farla Tutto qua E a me mi piace essere quello che sono io Semplice Oggi abbiamo giocato a bigliardino Abbiamo fatto battute Ci siamo divertiti Perché quando trovo le persone come me Come me Io sono così Quando trovo la persona qua a busto sotto il naso Allora io me la vado e ci circolo Ci sono altre domande? Sì, credo che c'è Ho due domande rapidissime Non so se abbia risposto alla prima La signora, la signora La signora Dica, dica Aspetta, aspetta No, si parla sempre di uccellazzi e uccellini Ma a me è venuto in mente Un episodio Dove tu lavori sempre con Totò Mi pare che si chiami La terra vista dalla luna Ma è sempre di Pasolini No? Eh sì È un episodio Sì Ecco La terra vista dalla luna E poi ne abbiamo fatto anche un altro Che cosa sono le nuvole Sì, infatti Quella terra vista dalla luna Quando io e Totò eravamo biondi Sì, sì Con le parrucche Con Silvana Mangano Eramo io, Totò e Silvana Mangano Invece che cosa sono le nuvole Quello che io facevo Tello con Totò Domenico Modugno No, io ho in mente Dove lui, Totò È sulla tomba della moglie Mi pare Sì, sì Allora la terra vista dalla luna Che però Quella l'ha fatta via Non si vede quasi mai Non è molto Eh perché signora La televisione non può far vedere queste cose Sì, sì È molto Non si possono far vedere Non so quanti lo conoscono Non è educato Non so quanto lo Cioè voglio dire Non so quanti lo conoscono Non conoscono questo Ma effettivamente non è Non viene Non sono delle Ma perché Perché Purtroppo Signora Pierpaolo è stata È stata una persona che È amata e odiata Anzi forse più odiata che amata Cioè Pierpaolo purtroppo C'aveva questo viso Di avere questa sfasciataggine Diciamo di Di essere chiaro E limpido Con se stesso E verso gli altri Che purtroppo L'italiano non è abituato Signora Non è abituato A sentirsi La verità No? E allora vengono messi da parte Non so neanche chi è questo Sto uomo che si è matto Insomma E allora E Pierpaolo Ma Pierpaolo Signora Se lei pensa che è una cosa Che io M'è capitato Di andare in Rai E parlare di Pierpaolo E non c'hanno niente Di Pierpaolo La Rai La Rai non c'ha niente Cioè non c'ha nessun film La Rai La Rai Non ha nessun film Di Pierpaolo E non ce l'hanno Non ce l'hanno Una volta Con Renzo Arbore Mi hanno fatto Una trasmissione Su Totò Insomma E mi hanno invitato Lì perché Vuono fare una proiezione Di un pezzo Di Uccellaci Uccellini Appunto questi due episodi Non c'hanno spezzoni Dei film Di Pierpaolo Non ce l'hanno E' strano E' strano E lei mi dice Perché non si vedono E lei mi dice Perché non si vedono Insomma Dico Io penso Una cosa che Ma Mi piacevo tanto Insomma Se uno sta All'alto Della televisione Dovrebbe capire Certe cose Invece Non gliene frega niente Altre cose E' quello che gli funziona Signora Quello che gli funziona Capito E' una vergogna E' una vergogna Scusi Non so se abbia Già risposto prima Chiedo scusa Quindi Come è venuto Il primo contatto Tra lei e Pasolini E' seconda domanda Se lei sa niente Del passato Di insegnante precario Di Pasolini a Roma Che ha detto Se io so Non l'ho capito Non l'ho capito Non l'ho capito Ma io prima Prima che conoscessi Pierpaolo Non so se c'era prima Io non lo conoscevo Pierpaolo Non lo conoscevo Ma poi Ho saputo Che lui E' venuto a Roma Poi su tutta la storia Ma dopo però Perché io prima Ripeto Non conoscevo Pierpaolo Non sapevo Chi era Pasolini All'età di 15 anni Non sapevo Chi era Pierpaolo Non sapevo Anzi 14 anni e mezzo Per dire la verità Però dopo ho saputo Cioè quando è venuto I primi anni a Roma Che ha insegnato Lì a Ciampino E come no Lo so tutto Che vuole sapere lei L'ho capito Questo E lo raccontate E lo raccontate E' arrivato tardi E che faccio Lo racconto un'altra volta No Non la racconti più Scherzi Scherzi Altro Tra l'altro Pasolini ebbe come allievo In questa borgata Vincenzo Cerami No? Te lo ricordi? Sì Altre domande? Allora Grazie Mi ricordo Soltanto Che L'ultimo L'ultimo incontro Domani Con Enrico Ghezzi E parleremo Di Pasolini E il cinema Anzi volevo dire una cosa Siccome io adesso Sto in giro Per l'Italia Perché sto facendo Lo spettacolo Di Pierpaolo Che è il bantone Il bantone Sto girando l'Italia Siamo stati Al festival di Spoleto Voglio dire E' uno spettacolo Che sto girando Ma perché non lo invitate Qui a Mestre? Perché non lo invitate La cosa di Pierpaolo Non è che Una cosa di Pierpaolo Bene Grazie E buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti